Novità al Comune di Sala Consilina dal 1 gennaio 2021, tutte le pratiche edilizie saranno digitalizzate. L'ente è impegnato a dare piena attuazione al Codice dell'Amministrazione Digitale, il testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. Si tratta di un vero e proprio cambiamento culturale che vuole una pubblica amministrazione più snella e trasparente, facile da raggiungere anche attraverso smartphone e tablet da parte di cittadini ed imprese, per un miglioramento della performance in termini di efficienza ed efficacia dei risultati attesi e una riduzione delle spese di produzione dei suoi atti, con l'abbandono ad esempio dell'uso della carta. In quest'ottica, dal 1 gennaio prossimo, tutte le pratiche edilizie di competenza del Comune di Sala Consilina saranno inoltrate e gestite esclusivamente in modalità digitale. La realizzazione di questo servizio online era uno degli obiettivi fissati dal responsabile per la transizione al digitale, l'ingegnere Attilio De Nigris, in sinergia con l'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore Michele Galiano. Per accedere alla nuova procedura, l'utente munito di speed dovrà andare sulla home page del sito web istituzionale e cliccare su servizi online, quindi su suap sue online. Sullo stesso sito e sulla pagina Facebook del Comune intanto si trova anche un filmato esplicativo sulle modalità di inoltro delle pratiche da parte degli utenti. È stato realizzato dall'ufficio comunicazione.